La storia insegna ma noi non impariamo, la natura ci accoglie ma noi la mettiamo a suo quadro. Figli indisciplinati e iperattivi dell'evoluzione biologica, costruiamo il nostro mondo e imponiamo la nostra visione. Per la natura siamo gli animali sfruttatori che cercano la felicità e la soddisfazione di tutti i desideri. E Madre Natura, opera presentata durante la ventottesima edizione del Festival del Castel dei Mondi ad Andria, è un monito, un manifesto per l'odierno e per il futuro. Le macerie e calcinacci sono la nostra storia, il lascito di culture e architetture disgregate, un cumulo di inutile memoria. La natura, giovane potenzialità femminia, nel frattempo si dispera della nostra visione miope di ciò che ci circonda. L'umanità dovrebbe fare quello che viene consigliato da una vita ormai. Quindi studiare, rileggere, documentarsi e far sì che il passato e gli accadimenti e la storia siano un elemento di prevenzione. È un'opera che mira a sensibilizzare qualunque individuo ne venga in contatto. Quindi siamo contenti, siamo felici e efficace. Diciamo che è un colpo al cuore, è stata definita da molti.